Ferrero, oggi insieme al rappresentante della sinistra greca avete detto insieme no alla manovra italiana anche per le possibili conseguenze che dicono sono quelle che sono successe già in Grecia. Sì, perché la politica che sta facendo il governo Berlusconi sotto la pressione dell'Unione Europea è la stessa politica che ha fatto il governo greco nell'ultimo anno, anno e mezzo ed è una politica che ha portato alla distruzione dei diritti dei lavoratori e che non ha per nulla bloccato la speculazione. Se si vuole combattere la speculazione bisogna mettere la mordacchia alle banche e ai finanzieri, non tagliare le pensioni dei lavoratori.